D.O.C. Storia natura e attualità Viaggio nel tempo, il nuovo canale che spazia dalle grandi esplorazioni ai protagonisti della storia, questo mese presenta la rassegna cinema. La realtà nella finzione speciale Spielberg, una serie di successi cinematografici come Lo Squalo, Indiana Jones e Jurassic Park. Cinecittà Luce Doc, invece, propone breve storia del fascismo a colori, raccontato da Folco Quillici, documenti eccezionali che vanno dall'ascesa al potere di Mussolini alla Repubblica di Salò.